cari amiche e cari amici qui ancora una volta il vostro sentenciana e da più di un mese che non faccio un programma per il mio radio canale di sprecher e me ne ramarico perché sono stato dietro l'applicazione di instagram e a fare di rete live streaming per youtube ma bando alle cianci visto che poi questa notte caricherò questo programma che non faccio dal vivo voglio parlare di tutto quello che è successo nel frattempo nel tempo in cui io non non ho più caricato un programma in sprecher che ormai ne carico 1 ogni morte di papa ed è per questo che dagli 800 iscritti ho passato ad avere quasi 600 perché ho perso persone interessate ad ascoltarmi e adesso voglio recuperare fare un commentario un radio commentario un radio blog di alcuni fatti che sono successi e che io ho trattato di cui io ho discusso soprattutto in youtube innanzitutto la chiusura dei canali di matteo montesi che hanno chiuso per delle segnalazioni e poi perché avrebbe fatto spam beh non bisogna eccedere in quello che si filma perché si può ferire la sensibilità di qualcuno discriminandolo e allora si incorrono in problemi anche se naturalmente molto del contenuto di blog dire tre che è stato caricato in youtube è anche peggiore del materiale che ha caricato matteo montesi che ha visto i suoi canali chiudere come anche i canali e di giuseppe simone eppure nel programma di ghezzi se non mi sbaglio blog se ne vedevano di crude e di cotte infatti molte cose che ha fatto matteo montesi si sono visti in blog anche quando compieva le sue funzioni fisiologiche o vomitava e io credo che giuseppe simone filmandosi a torso nudo nel giardino di casa sua abbia voluto anche lui imitare gli sketch di blob io credo che blob negli anni 80 90 ha influenzato un'intera generazione di gli attuali youtubers italiani del trash che si definiscono gli youtubers italiani del trash puro e quindi voglio dire youtube mette delle restrizioni sempre più rigide adesso mi hanno tolto la monetizzazione perché non ho 4.000 ore di visualizzazioni del canale ne ho appena 2600 e mi sembra ingiusto perché mi dovevano 80 dollari comunque sono rimasto con la partnership e ho continuato a fare molti video nonostante tutto ciò e quindi vi invito per favore di andarli a vedere nel mio canale così mi aiutate però questo questi limiti che ogni volta si inaspriscono contro chi ha la monetizzazione hanno fatto incavolare molte persone molti youtubers nel mondo perché già ci avevano la monetizzazione e magari anche guadagnavano anche bene poi youtube a volte ti riduce le visualizzazioni dei video i like dei video le visualizzazioni del canale gli iscritti al canale di questo ne ha parlato anche il mio amico claudio wolf e ha fatto impazzire un po di gente nel mondo e non ti danno spiegazioni di questo a volte ti tolgono ti rimuovono un video o dicono che non te lo possono monetizzare se c'è la monetizzazione perché ci sarebbero dei conflitti con gli interessi d'autore ecco bisogna che ti diano delle spiegazioni se uno canta una canzone scritta da lui stesso che conflitti con gli interessi d'autore ci sono ebbene molti impazziscono metaforicamente ma in questi giorni e io ho fatto un video su youtube nasim naiafi ashdam una youtuber nord americana che viveva dai nove anni se non mi sbaglio in nord america e ne aveva 39 nasim naiafi ashdam di origine iraniana non so se è andata a vivere quando era piccola quando aveva nove anni in iran che in internet si faceva chiamare nashime saps saps è impazzita perché gli riducevano le visualizzazioni dei video alcuni dei quali avevano superato le 300.000 visuals gli toglievano i like e i commenti e poi gli riconoscevano per qualche video che aveva fatto più di 300.000 visualizzazioni appena 10 dollari devo dire che il primo anno i primi due anni youtube ha fatto lo stesso anche a me 2013 2014 ero arrivato ad avere 80 90 dollari a mio favore e poi magicamente apparsa la scritta zero dollari poi il 20 gennaio o 27 gennaio 2017 mi hanno pagato per un video che avevo caricato tre anni prima mi hanno pagato 150 dollari ecco in quattro anni ho beccato 150 dollari mi hanno tolto un sacco di visualizzazioni in molti video e anche del canale quindi io non so quanto avrei dovuto monetizzare realmente però questa nasime saps che adesso youtube sta cancellando tutti i suoi canali anche perché non sarà rimasto nessuno a gestirli e che c'ha degli account in instagram che non so se li gestisce qualcuno è impazzita veramente anche perché lei era convinta di promuovere una causa giusta quella del veganissimo e quindi ha preso una pistola e ha voluto farsi giustizia cosa che non si giustifica mai la violenza è andata nella sede centrale di youtube ed in una caffetteria ha sparato tre persone ferendole gravemente e poi si è suicidata i genitori, il padre, aveva denunciato la scomparsa della figlia già da giorni quelli dell'FBI l'hanno ritrovata dormendo nella macchina a pochi chilometri dalla sede di youtube ma non l'hanno fermata poi si dice che solo in Italia la polizia attua male e questo è il secondo tema di cui avrei voluto parlare anche Sprecher ma che ho parlato in youtube ho fatto molti video sulla chiusura dei canali in youtube di Matteo Montesi, Giuseppe Simone John Doe 74, credo se è 76 cioè l'orco patatone e poi ho anche fatto un video su quello che è successo nella sede di youtube ad opera di Nasim Nayafi Ashdam cioè Nasime Sabz e passiamo all'ultimo tema che mi sarebbe piaciuto trattare cioè di tutto questo ambaradam innanzitutto che ogni tanto ritornano minacce di guerre nucleari contro Corea del Nord e e sembra che poi non si fa nulla per fortuna e ultimamente invece l'attenzione si è focalizzata di nuovo sulla Siria perché sembra che innanzitutto non sono riusciti come dicevano a vincere il califato ma ne hanno ridotto la sua portata e poi che adesso il conflitto duro viene contro i kurdi la cui autonomia la cui indipendenza la cui costruzione di uno stato sovrano che avevano promesso per avere la loro collaborazione e il loro sacrificio nella guerra contro i fondamentalisti che chissà chi ha finanziato nessuno vuole appoggiare la costruzione di un Kurdistan né in Iraq né in Siria né meno che mai in Turchia anzi i turchi attaccano i kurdi allora c'è stata di nuovo una prova muscolare fra Trump e Putin con minacce che poi sono state subito relativizzate da parte di Trump che prima aveva detto vi facciamo vedere i nostri missili e adesso dice ma no saremo più moderati il Pentagono spinge una moderazione butta acqua sul fuoco forse gli Stati Uniti non stanno nelle condizioni di poter iniziare una guerra nucleare o non vogliono comunque i russi non si tirano indietro gli israeliani sono pronti a intervenire con gli arabi sauditi contro l'Iran e la Turchia appoggiata dal Regno Unito e dalla Francia sta con Nord America insomma si stanno allineando i pezzi nello scacchiere della geopolitica nel Medio Oriente d'altra parte tutto questo l'aveva già preannunciato George Walker Bush Junior il figlio di quel George Walker Bush Senior perché ha una fantasia nel dare i nomi che aveva fatto la prima guerra del Golfo il padre il figlio non vuole essere da meno e allora ha fatto la seconda guerra del Golfo che è stata devastante e aveva annunciato prima dell'attacco del 11 settembre del 2001 che è stato il pretesto per la guerra asimmetrica in Afghanistan ed anche in Iraq che avrebbe attaccato i paesi che informavano o meglio formavano l'asse del male secondo Bush Junior i paesi dell'asse del male erano niente di meno che Libia Somalia Palestina Siria Iraq Iran Corea del Nord e sorpresa Somalia mi sembra che l'ho detto Pakistan Russia Cina quindi sono tutti i paesi che sono stati toccati diretta o indirettamente dall'azione bellica nordamericana anche dopo la presidenza di George Walker Bush Junior durante l'amministrazione Obama e durante l'amministrazione Trump si è andati sempre a stuzzicare la Russia con la questione dell'Ucrania della Crimea e adesso si vuole andare contro la Russia la Cina con la questione di Siria speriamo che non concretino questa becera questa bieca profezia perché veramente se no ci sarà il primo olocausto nucleare la prima guerra mondiale nucleare e saremo tutti delle vittime non ci sarà vincitore con questo io vi saluto e vi rimando ad un altro programma radio che farò al più presto possibile grazie di seguirmi e mi raccomando portatemi iscritti e guardatemi nel mio canale di Youtube Sant'Enchan a presto